L'Associazione degli Amici del Lupo per ricordare Francesco Zerbi anche quest'anno ti invita dal 13 al 30 maggio al secondo trofeo Ciccio Zerbi che si terrà allo stadio Elvio Guido di Polistena. Un trofeo che vedrà in campo 16 squadre giovanili a livello nazionale e che avrà tanti momenti interessanti come la partita del cuore, un calcio per la vita che si giocherà il 21 maggio alle ore 10 tra Nazionale Artisti TV e gli Amici del Lupo. La finale del trofeo si disputerà il 30 maggio alle ore 22, l'evento poi si concluderà in Villa Italia con la presenza di due comici di Zelig. Vieni anche tu a ricordare un campione.